Chiara A-S-M-R Ciao ragazzi Grazie di essere qui con me oggi Oggi farò un eating sound e mangerò una pizza con voi so che non mi vedete in viso però so che è semplicemente una margherita però mi piace anche così mi scuso già per il rumore di sottofondo ma non ci posso fare nulla sento che si sentono delle voci sotto ma il cibo è qui ora non posso mangerlo fra un'ora prima di iniziare vorrei chiarire che con tutti che questo è un video ASMR fatto per rilassare e in questo video sentirete suoni di cibo io che mangio cibo quindi se non vi piacciono non lo guardate e non lamentarvi se rispondo a commenti male che mi dicono ma si sente te che mangi bene inoltre ho fame quindi se mangio velocemente se mangio male però voi non lo so non lo so mi dispiace mi dispiace mi dispiace con il succo mi dispiace e il succo diretto l'uomo sono io di solito sono una di quelle cattivissime persone che tendono a lasciare la crosta fuori a mangiarla mi dispiace ho anche il succhino da prova bambina un po' un po' un po' un po' la pizza di questa pizzeria è abbastanza piccola rispetto magari ad altre però è molto molto buona e poi costa pochissimo una margherita costa 3 euro è però più vicina non mi ricordo se l'ho già detto però se sentite il rumore sottofondo mi dispiace ma non ce l'ho detto comunque giusto annucerando io non ho la tele altissima mi dispiace davvero tanto io vi consiglio sempre che casino magari parlo un po' più alto così io vi consiglio sempre di guardare questi video mentre mangiate ripeto scusate ripeto scusate per il casino mentre mangiate perché così non vi verrà una fame chimica se non vi viene una fame che era da un sacco e non facciamo bene eating non solo che a me piace farli con una cosa consistente non mi piace farli con merendine non mi piace farli con merendine è da secoli che lo voglio fare con la pasta però non trovo mai tempo perché la devo cucinare devo essere da sola e devo avere l'attrezzatura a casa tutte cose che che ufficialmente coincidono e non ci deve essere casino quindi proprio buonanotte sicuramente molti di giù diranno è strano perché sembrava i video vecchi che non mi strava il viso diranno sì perché questo non aveva pizza danno la pizza è così io non vedo l'ora di andare giù per sentire la vera pizza questa è comunque buona non sarà la vera pizza napoletana mi sembra che comunque i bordi molto più spessi anche la mozzella è un'altra qualità però e niente volevo farlo in inglese poi mi sono accorta che avevo voglia di chiacchierare quindi ero fatta in italiano mi sono accorta che in Italia sono pochissimo conosciuta sarà perché effettivamente poche volte metto i video in italiano però io ho fatto due anni il 5 febbraio mi è passato di mente volevo fare una cosa carina però mi è passato febbraio così vabbè mi devo raccontare anche del laboratorio e mi rendo conto che c'è in Italia non mi conosce praticamente nessuno e sono tra i preferiti di pochissimi non è che pretenda però un po' è strano la mia pancia poi un dubbio amletico vi giuro sono in crisi io sono sempre stata fermamente fermamente convinta di non volere un tre dio per tre ragioni la prima è che fino a poi tempo fa il suono non mi piaceva e adesso dipende comunque moltissimo dalla persona che lo usa due costa ragazzi costa 600 euro cioè 600 euro attimo quindi comunque non è che costi poco cioè è un mettere da parte parecchi soldi comunque e ero quasi completamente convinta di prendere il microfono con le raghe che hanno Tokyo Berry Fairy Peace and Please che si chiama SR3D mi sembra però la qualità è diversa effettivamente per quanto mi piaccia quel microfono dopo ho fatto quell'acquisto io non farei acquisti per secoli e mi scoccierebbe prendere un altro microfono con le orecchie diverso non avrebbe senso quindi non so davvero cosa fare se aspettare salvare i soldi e fare questo investimento che per me è veramente tanto veramente tanto terza cosa c'è altro motivo non so più altre cose è che ce l'hanno tutti io questa cosa mi da fastidio ho paura dopo di finire a fare gli stessi video di tutte le altre persone non lo so non po' che bella scena scusatemi non so se mi fa l'ultima fetta perché è un po' fredda adesso la pizza no però pasta pizza però ho prodotto su delle gocce che ne mangio ne mangerò due o tre con voi per concludere l'indolcezza e quindi niente fatemi sapere se a voi piace il tre dio io non pretendo neanche di rifarci quelle donazioni perché il canale è fondamentalmente mio quindi non sto ne chiedere voglio aggiungere il questo fatemi delle donazioni no cioè non benvengano però è giusto che ci arrivi con i soldi del canale è giusto quindi boh allora gocce le gocce le gocce in realtà non so i miei biscotti preferiti in questo periodo i miei biscotti preferiti sono due uno sono i gran cereali al riso mi sembra che non hanno il cioccolato quindi solitamente senza cioccolato non piacciono però sono una cosa ma una cosa assurda pazzesca me l'ho di borati anche se anche i gran cereali al cioccolato sono una cosa pazzesca un'altra però mio padre ha preso i plasmon per adulti che ne piacciono tantissimo i plasmon solo che mi vergogno un po' a prenderli perché sono per tontini però infatti i plasmon per adulti con gocce di cioccolato sono una cosa ma provateli sono mamma mia comunque in sostanza ditemi se a voi piace il 3dio se secondo voi avrebbe senso fare un investimento del genere non lo so io alcuni canali alcuni audio di canali tipo desi e l anche se l ultimamente un po' riesco a sentirla solo senza auricolari perché appunto sono suoni molto molto forti siccome dipende moltissimo dalle impostazioni non lo so sono indecisissima ho paura che dopo non piaccia boh ditemi la vostra intanto qui urlano scusate e poi adesso sto anche messaggiando su messenger comunque adesso sto messaggiando con una ragazza che sicuramente conoscerete con cui io ho in progetto una collaborazione super speciale aio e una collaborazione siccome è che si fia in bene è pazzesca però vedremo vedremo come vanno le cose ci metteremo la dieta lo so già la mia notifica comunque io volevo dire altre cose però ogni volta ho un sacco di cose da dire poi mi scordo e poi sono già qui sono 26 minuti adesso vedremo quanto saranno in montaggio sicuramente massimo 20 sono un 18 figuratevi da quante catture sono? mi avete contato? posso mandare un'altra? mi hai dato il permesso cosa volevo dire? non mi ricordo ultima domanda perché è arrivato in fondo al video voi chi preferite di masterchef? chi di voi guarda masterchef? chi preferite di masterchef? ho proprio i suoi cibi abbiamo anche l'ultima gocciola poi chi è il posto preferito? io sono molto molto indecisa quella che mi sto più su in generale Gloria io faccio non mi vanno non voglio dire chi ha eliminato chi no perché dopo non voglio fare spoiler a nessuno sicuramente Gloria mi sta sulle palle l'oletane invece mi piacciono un sacco per me sarà maestrino tutto quanto però lei che cavolo è brava secondo me non si vanta per me è conscia delle sue capacità ma non crede di essere chissà chi ed è molto molto brava e soprattutto lei l'ha detto onestamente io non voglio fare la giocata e adesso elimino i migliori io voglio giocarmela se no perde tutto il gusto invece Gloria li ha elimino tutti uno ad uno elimino prima quelli più forti questo però è stata spianata ciò che si finge lei mi cavolo cioè è un Erika dell'anno scorso con un po' di quell'altra lì come si chiamava terribile veramente un mix letale odiosa vabbè margherita mi sono simpatico ma adesso c'è fa la sua schiavette insopportabile invece mi piacciono molto Cristina Michele G anche se non si Michele G anche se non si dà che caspita ci faccia lì ha messo simpaticissimo tipo anche per lui però non è assolutamente livello degli altri Valerio per me io spero venga lui qui c'è 30 minuti di video ma io sono pazza ma chi è che arriva alla fine Cristina per me è prova quindi niente dimmi quali sono i vostri preferiti non so così e vi mando un bacio enorme ci vediamo al prossimo video mi raccomando rispondetemi sulla domanda nel microfono perché per me è molto 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 importante e voglio bene che rispero non so Grazie a tutti.